Ciao a tutti, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per il mese di novembre 2021 per il segno del toro. Sono previsioni comunque generali, fatte per un collettivo, quindi potrebbe tranquillamente essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete i messaggi che vi servono e il resto semplicemente lasciatelo andare all'universo. Per avere poi un messaggio più completo vi consiglio anche di andare ad ascoltare il vostro ascendente e segno lunare. Bene. Mostrami, toro, energie generali, novembre. Abbiamo la carta del controllo. Probabilmente c'è qualcuno, toro qui, che sta cercando di controllare oppure che vive in un'energia appunto di controllo. Ma andiamo a vedere un pochettino più nello specifico che cosa vi dicono i tarocchi. Vi ricordo che la prima è comunque una stesura di tipo generale, lascerò che siano le carte a parlare, mentre nella seconda parte della stesura andremo a vedere l'amore. Bene. Ok. Allora. Nove di coppe. Asso di bastoni. Quindi c'è qualcuno qui, toro, che probabilmente stando in questa energia di controllo è riuscito comunque a trovare quello che è una sorta di appagamento, una sorta di soddisfazione personale, ok? O può essere che questo controllo vi dia la sensazione di avere tutto in ordine appunto. Poi abbiamo l'asso di bastoni, il 4 di spade e il matto. Allora, sicuramente con l'asso di bastoni c'è un certo tipo di azione o che va fatta o che dovrebbe essere fatta. Per qualcuno mi può parlare anche di quello che è un incontro magari con una persona, può essere un incontro lavorativo magari per firmare un contratto visto che c'è questo 4 di bastoni. Oppure se fosse una lettura per esempio d'amore potrebbe essere che con queste due carte ci sia quello che è un incontro con una potenziale persona perché il 4 di bastoni normalmente mi parla di quello che è appunto un incontro di tipo almico perché i bastoni ricordano il numero dell'1111, ok? Abbiamo anche questo matto, questo matto 7 di pentacoli e 4 di coppe. Questo matto in realtà mi parla di quello che è un, come posso dire, non mi piace dire un senso di, infatti non lo dico, è come se non vi fidaste molto di quello che è quello che vi sta succedendo, diciamo, intorno. Andremo poi a vedere più nello specifico di che cosa mi parla il matto. C'è comunque questa sorta di energia di attesa, di studio della situazione, diciamo il 7 di pentacoli normalmente mi parla di qualcuno che ha seminato, che ha fatto un determinato tipo di lavoro e che adesso è in attesa e sta aspettando appunto che i frutti del lavoro che ha fatto diventino maturi insomma e il mondo. Quindi appunto c'è questo tipo di energia, diciamo, di attesa. Per certi versi con questo 4 di coppe quello che mi viene da dire è come se si stesse aspettando o meglio, non vedendo quello che potrebbe essere l'aiuto da parte di qualcuno. Il mondo comunque mi parla di quello che è un'energia di cambiamento, un'energia di compimento, scusate. Quindi potrebbe essere che c'è qualcuno che qui non si rende conto di quello che realmente ha delle possibilità che ci sono. Voglio andare a vedere subito questo 4 di coppe per piacere, grazie. Gli amanti al contrario e il 4 di pentacoli. Allora diciamo che probabilmente c'è qualcuno che non vede quello che potrebbe essere una potenziale relazione, potrebbe essere di lavoro come romantica. O per qualcun altro potrebbe essere che ci sia un certo tipo di scelta da fare che in realtà non si voglia effettuare. C'è con questo 4 di pentacoli quello che è una sorta di attaccamento ad un determinato tipo di situazione. Voglio andare a vedere questo 7 di pentacoli. Non è che ci sia molto da spiegare in realtà perché comunque sono carte belle. Quello che si viene fuori con questo controllo è che avete diciamo la situazione sotto mano, la temperanza e l'imperatore. Difatti siete in una posizione in cui vi sentite sicuri di voi stessi, in cui vi sentite comunque padroni del vostro mondo. State comunque cercando o comunque avete lavorato in modo da trovare quello che è un equilibrio in un determinato tipo di situazione. Voglio andare a vedere quello che è il 4 di bastoni per piacere, grazie. Ancora una, grazie. Allora il 4 di bastoni è spiegato dal 6 di spade e dal 2 di spade. Qui c'è qualcuno che ha dei dubbi, può essere per quello che riguarda un contratto o una relazione. Probabilmente ci sono delle forme pensiero dalle quali ci dobbiamo allontanare, dobbiamo fare un certo tipo di chiarezza mentale. È come se non ci si decidesse insomma ad andare avanti in questa avventura. Per qualcuno invece vorrebbe proprio dire la necessità di lasciare casa. Magari siete giovani ed è ora di andare ad abitare da soli, oppure potrebbe essere allontanarsi da quello che è un certo tipo di accordo, di contratto. Voglio vedere il matto, di che cosa mi parla, il matto. Due carte per piacere, grazie. Queste sono troppe, le raccolgo. Allora la prima è la torre, per spiegare il matto. Ancora una per piacere, grazie. E la stella. è come se qui ci fosse una... Allora la torre mi parla di quello che è un'interruzione di tipo brusco, di un qualche tipo di relazione o di connessione. Però c'è anche la stella che mi parla comunque di guarigione, quindi può erarsi che per qualcuno si stia lasciando indietro una determinata cosa, o si debba lasciare indietro una determinata cosa per far sì di stare meglio. Ma non c'è questo... non si dà questo passo, insomma. Non si procede a rompere quello che sono i vecchi schemi, mi verrebbe da dire, no? Per qualcuno vorrebbe... è proprio una sfida con il proprio ego. E per qualcuno è proprio quello che è il lasciare indietro l'ego per appunto riuscire ad avere quello che è un'elevazione spirituale, una espansione della coscienza, mi verrebbe da dire. Voglio andare a vedere il mondo per piacere, grazie. ancora una. Sì, comunque sono carte belle, c'è qualche dubbio, forse c'è un attimino di bisogno, perché comunque c'è un 2 di sfade, c'è comunque la carta degli amanti, quindi sicuramente un certo tipo di posizione, c'è anche la torre, un certo tipo di posizione va cambiata, ok? Che sia una presa di posizione da un punto di vista mentale, piuttosto che un cambio di tipo fisico, però c'è un qualche cosa. Ma comunque non sono carte negative, anzi, direi proprio che sono carte positive. Il mondo mi viene spiegato dalla regina di coppe, quindi potrebbe essere che magari c'è una figura di tipo femminile che vi dà una mano, nel senso a cambiare la situazione, a capire che cosa va migliorato, insomma. C'è questa figura femminile che vi fa questa offerta, vi apre il cuore, in un certo senso. Per qualcuno potrebbe proprio essere un aiuto di tipo emotivo, quindi qualcuno è un confidente, piuttosto che è una terapeuta. Per qualcun altro potrebbe essere l'aiuto di una madre, di una zia, insomma, o se fosse per un lavoro potrebbe essere magari semplicemente una persona che nella scala gerarchica è più in alto rispetto a voi e che vi dà una mano con quello che è il vostro progetto, insomma. Bene, voglio andare a vedere adesso l'amore per il segno del toro per il mese di novembre. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi per il toro. Vi ricordo comunque che se siete cross watcher, ossia se siete venuti qui a curiosare per un toro, potrebbe essere che la lettura risuoni a specchio. Ok? Andiamo a vedere toro, amore, novembre 2021. Wow. Il diavolo. Il 2 di bastoni e il re di coppe. Questo diavolo mi parla di comunque un'energia di tipo stagnante, un'energia un po' bloccatina, ecco. Probabilmente per qualcuno potrebbe essere che vi sentite, come dire, con le mani legate, ok? Il fante di, scusate, il re di coppe in questo caso potrebbe tranquillamente essere quello che è la vostra, il vostro partner, la vostra dolcemetà. Nel caso non avesse nessuno potrebbe essere una persona che sta arrivando, ok? Però ecco, questo comunque diavolo mi riporta un po' a questo tipo di carta, quindi alla carta del controllo, perché quando c'è il diavolo di mezzo, non so se vedete la figura, ha comunque una persona legata con dei fili, come se fosse un burattino. Quindi mi richiama molto anche questa carta qua che è uscita prima, che è appunto la carta del controllo. Potrebbe essere che sia un'energia che siete voi a controllare, può darsi che appunto siate voi che state controllando qualcuno o un determinato tipo di situazione, oppure potrebbe essere che ci sia qualcuno che vi stia controllando, magari non proprio da un punto di vista del movimento pratico, ma magari anche solo sui social, o sei di spade e due di spade, o magari che vi stia controllando il telefono, per esempio. sento comunque un'esigenza di di allontanarsi, ok? Da quello che è un certo tipo di energia. Per qualcuno vorrebbe dire che magari c'è il desiderio di allontanarsi da questo tipo di energia, ma in realtà mi viene un po' da dire che non ci sia la forza di farlo. 10 di bastoni. Qualcuno magari ha tanti dubbi, vedo che comunque siete in una situazione appunto di dubbio, di confusione mentale, siete in un momento dove avete tante responsabilità comunque su di voi con questo 10 di bastoni. probabilmente è proprio ora di, insomma, spartire le acque e capire che cosa è vostro come responsabilità e che cosa è invece degli altri, oppure anche se dovessimo parlare per esempio di aspettative, che cosa, quali sono le aspettative realmente vostre, quali sono invece le aspettative degli altri, quelle che a noi non competono fondamentalmente, ok? Comunque, alla fine del gioco c'è quello che è un riconoscimento, quindi ci sarà quello che è un riconoscimento. Può essere da parte vostra un riconoscimento a voi stessi, scusate, o può essere da parte di qualcun altro. Volevo andare a vedere questo 2 di bastoni, che è spiegato da un 9 di coppe, ancora uno per piacere, grazie. Perché per qualcuno questo 9 di coppe mi rappresenta quello che, diciamo, è il desiderio, no? O quello a cui voi state aspirando, mi verrebbe da dire. Probabilmente c'è un obiettivo che volete raggiungere con questa persona, o nel caso foste soli, magari avete in testa qualcuno, oppure semplicemente state cercando di manifestare una vostra anima gemella. Allora, 9 di coppe, 10 di coppe, 4 di pentacoli. Sì, è come se qualcuno avesse il desiderio comunque di formare una famiglia, o di stare bene in famiglia, no? Perché comunque il 9 di coppe mi parla di un tesoro che si trova, quindi può essere che ci si tenga stretto proprio quel desiderio, o quella persona che rappresenti per noi la famiglia, in questo caso. Voglio andare a vedere un attimo il diavolo per piacere, grazie. Adesso la raccolgo, ancora una. Ok, grazie. Allora, il diavolo è spiegato dal 3 di spade al contrario, e dal 10 di pentacoli al contrario. Quindi quello che mi viene da dire è che per qualcuno c'è una fortissima sofferenza legata a quello che è un gruppo. Potrebbe essere un gruppo di amici, o un gruppo familiare proprio, o magari proprio la vostra famiglia, la famiglia che avete creato. Con questo diavolo sento che c'è comunque un qualche cosa che ristagna, un qualche cosa che è bloccato. Per qualcuno, diciamo che questo 3 di spade potrebbe essere legato a un tradimento, che può essere un tradimento di tipo fisico, piuttosto che un tradimento della fiducia, ok? Però qui quello che sento è che c'è un forte dolore che non viene elaborato. C'è un forte dolore che comunque è legato ad un gruppo di persone, ripeto, potrebbe essere una famiglia, ma non viene letteralmente urlato. come se vi stiate tenendo tutto dentro, ok? Va bene, voglio andare a vedere questo 6 di spade per piacere e grazie. ancora una, una, vabbè, sono 4, le prendiamo. Allora, 6 di spade spiegato dal 5 di coppe, dall'imperatrice, dalla torre, dalla regina di pentacoli e dall'8 di spade. Per qualcuno mi verrebbe da dire che c'è da allontanarsi da un certo tipo di aspettativa, L'imperatrice mi parla sempre di quello che è una creazione, creare qualche cosa. Potrebbe essere appunto un progetto o magari appunto qualcuno si aspetta di fare quel passo in più nella relazione, ma c'è comunque quello che potrebbe essere un senso di colpa con il 5 di pentacoli o comunque una sensazione di perdita, ok? La torre mi parla di quello che è una rottura, un qualche cosa che, che crolla proprio, letteralmente potrebbero essere per qualcuno le convinzioni che si hanno, piuttosto che una solidità di tipo materiale, di tipo fisico, ok? vi vedo comunque diciamo in un'energia di regina di pentacoli, cioè avete raggiunto comunque un certo tipo di stabilità, che magari era proprio la stabilità che si stava cercando e state cercando comunque di tenervela stretta. Però quello che vedo io è che non siete in realtà sereni al 100%, è come se mi venisse da dire è più una questione di facciata, no? Quando la società si aspetta che ci si fidanzi, sposi, che si faccia famiglia, insomma, che si metta su famiglia, ecco. Magari però non è proprio la situazione ideale per voi, ci sono comunque tanti pensieri che appunto anche con il 5 di coppia mi fanno pensare proprio a quelli che sono i sensi di colpa, a quello che è un rammarico, un pentimento per determinati tipi di cose, per un gruppo piccolo, molto piccolo, queste due carte insieme mi fanno pensare a quello, anzi queste tre carte insieme, mi fanno pensare a quello che potrebbe essere un aborto. Quindi ricordate che niente definitivo con i tarocchi, ok? Sicuramente sarà per un gruppo ristretto, spero magari che sia per nessuno, però ecco, questo mi salta un po' proprio all'occhio. Ed è per questo anche magari tutte queste sensazioni di sensi di colpa, tutto questo, così, rammaricarsi, questo autosabotarsi con questa carta, no? Di fatti qua ci sono poi anche un sacco di dubbi, che che mi sono portati dal comunque due di spade, ci sono questi questi pensieri, questa questo dubbio, ok? Proprio forte. Voglio andare a vedere questo 10 di bastoni, per piacere, grazie. il 9 di pentacoli e il matto. sì, da un lato si vuole lasciare indietro qualche cosa, mentre dall'altro invece come se non ci fosse abbastanza fiducia in se stessi per fare questo salto, per fare questo passo. si sente che sia in un momento veramente di stress, si sente che c'è come dire sia in un momento veramente pesante, dove ci sono tante cose a cui pensare e sono tante le responsabilità, però forse è il caso di avere più fiducia in se stessi, perché alla fine la lettura finisce con questa carta, che è una carta molto bella, è la carta del successo. quindi le potenzialità ci sono, andiamo a vedere quella carta lì, le potenzialità ci sono, perché finisca la lettura in modo bello insomma, perché diciamo la questione si risolva. Allora, mi dice di lavorare su quello che è la comunicazione, quindi sul modo di comunicare e anche su quello che si comunica, gli amanti, e gli amanti in questo caso mi parlano di quello che è una scelta dell'amor proprio. C'è anche la torre, la torre mi parla di quello che è la caduta dell'ego. Quindi è come se ci fosse per qualcuno questa necessità di vincolarsi un po' dalla situazione in cui si è. Bisogna un attimino forse alzare la testa e dire no, ok, aspetta un attimo perché le cose non non sono così che le volevo, insomma, non sono così come me le aspettavo. Bene, voglio andare a vedere ancora un ultimo messaggio degli angeli del cuore. Vediamo un po' che cosa hanno da dirvi. dipendenza reciproca. Wow! Quindi queste due, diciamo, carte che mi parlano comunque di controllo, ok, può essere che sia una sorta di controllo che pratichiate entrambe l'uno all'altra, ok? Quindi situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Difatti sì, vedo anche che qui c'è un non sentirsi abbastanza indipendenti per muoversi da soli. Guardate, per qualcuno potrebbe, potrebbe, ma sento che per un gruppo un po' piccino, diciamo, potrebbe riferirsi ad anime karmiche, quindi anime che comunque si incontrano per progredire, per insegnarsi qualche cosa. Però ecco, bisogna cercare di tranciare un pochettino con quello che è la torre. Bisogna cercare proprio di tranciare quelli che sono determinati figli, determinati legami, ok? Perché è vero che magari qui sembra che ci sia il sogno compiuto, è quello a cui voi aspirate, è una cosa un po' contorta quella che vedo in questo momento. Bene, Toro, questo è quello che avevo per te per il mese di novembre, spero che in qualche modo il messaggio ti abbia dato una mano a farti, insomma, schiererti un po' le idee. Se in qualche modo il video ti è stato d'aiuto, metti un like, iscriviti al canale e condividi. Io ti ringrazio tanto per il tempo che hai trascorso qui con me, ti mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!